Giovedì 26 giugno 2014, grande successo all'Auditorium Testoria Palazzo Lombardia per il workshop organizzato da Action Group dal titolo Involucro Edilizio. La nostra società che opera nel settore dell'assalimentistica e di porte interne nasce nel 1979 per cui da più di 35 anni che opera con quasi 30 addetti nel settore e ha diversi marchi importanti ad esempio Finstral come brand forte, la società Garofoli in campo di porte interne e Oikos come porte blindate se non anche torterolo. Ci umiliamo con una dipendenti propri, operiamo nel settore esclusivamente del serramento con uno studio tecnico interno di progettazione e abbiamo puntato molto sulla qualificazione della nostra posina opera con la FT tedesca. La collaborazione con Finstral nasce 20 anni fa e oltre e continua ad essere sempre più forte, solidale, solido questo rapporto perché le società hanno un obiettivo comune, quello di qualità e un progetto condiviso per poter crescere nei prossimi anni.